Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La giornalista Barbara Palombelli sembra avere una casa da urlo nella sua città natale, Roma Vediamo più dettagli.CasaBarbaraPalombelli.Barbara Palombelli è un volto noto della televisione italiana soprattutto per quanto riguarda l'ambito del giornalismo In molti pensano che lei abbia una personalità forte che sia molto brava nel suo lavoro, ovvero condurre il programma Forum Si trova infatti alla conduzione da un po' di anni a questa parte Ma vediamo più nello specifico chi è veramente Barbara Palombelli È nata a Roma nel 1953 e Sen da subito si interessa alle materie umanistiche conseguendo, appunto, la laurea umanistica Successivamente inizia la sua carriera collaborando con le maggiori testate giornalistiche italiane La vita privata di Barbara Palombelli e la sua proprietà.Barbara Palombelli è attualmente sposata Suo marito è Francesco Ortelli.Ma non finisce qui, Barbara infatti è madre di ben quattro figli È una madre presente nonostante il lavoro faticoso che le richiede sicuramente tempo ma che rappresenta anche la sua passione più grande Barbara Palombelli.Di questi quattro figli, solo uno è stato avuto con il marito, Giorgio, nato nel 1982 Infatti la famiglia è favorevole alle adozioni, motivo per cui gli altri tre figli sono stati adottati Il secondo genito della famiglia Rutelli, Palombelli, è un bambino di origini dell'Equador di nome Francisco La coppia lo ha adottato all'età di 5 anni.La Palombelli spiega in riferimento a suo figlio Francisco che il marito di lei dice spesso che assomigliano ad un circo Che Giorgio ha sempre desiderato una famiglia allargata e che si è subito affezionata a Francisco Il bambino fin dal primo momento si è avvicinato alla coppia con un fiore in mano e ha chiamato Barbara Mamita Barbara Palombelli e figli.Gli altri due componenti del nucleo familiare sono due femmine adottate all'età di 11 e 7 anni Si tratta di Serena e di Monica. Ora a quanto pare tutti i figli di Barbara hanno ormai lasciato il nucleo familiare ma ci si domanda come possa essere la casa di una giornalista di successo come lei Di certo si sa solo che lei vive in una casa bellissima nella sua città natale, Roma La Palombelli, infatti sembra essere molto riservata e nonostante abbia profili sui social come Instagram, la sua scelta ricade sul non dare informazioni sulla sua vita privata Scelta condivisibile per un personaggio pubblico. Di conseguenza al momento non abbiamo la certezza su come possa essere casa sua, ma possiamo immaginarla Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video